Un po' di nostalgia, però tanta emozione, tanto divertimento e alla fine abbiamo raccolto una cifra importante che destineremo a un progetto di ricerca per la SLA e quindi avanti così. I tifosi della Juve chiedono la vecchia Juve, come si fa a tornare? Ci vuole un po' di pazienza, un po' di fortuna, bisogna continuare a crederci e stringersi tutti insieme. Si è fatto anche il tuo nome per la panchina della Juve? Sì, l'ho sentito anch'io. Mi piacerebbe, mi piacerebbe. Non lo so, non lo so. Ti chiamassero domani? Ci dovrei pensare. Bisogna capire che dopo quello che è successo, con Calciopoli, la retrocessione, la partenza di alcuni giocatori importanti, ci vuole del tempo per ricostruire le fondamenta. Spero di aver lasciato un bel ricordo, è una cosa reciproca e quindi è sempre un piacere. Poi non torno molto spesso, quando mi vedono probabilmente si ricordano dei tempi passati e è sempre molto piacevole, molto emozionante.